Parliamo di libroterapia. La libroterapia è una metodologia che noi come pronto soccorso letterario abbiamo accolto e come dicevi bene tu nasce già negli anni 30 del 1900 del secolo scorso e nasce all'interno dell'ambito clinico. I fratelli Menninger nella fattispecie studiano e scoprono che una lettura guidata può essere la medicina perfetta con tutte le virgolette del caso ovviamente per aiutare e per andare a braccetto appunto con l'indagine e la terapia e l'analisi tradizionale. Il nostro intervento è di tipo performativo nel senso che noi scegliamo la libroterapia come metodologia per arrivare a quello che vedete a questa sorta di proposta ludica nel senso che appunto non essendo un medico non essendo uno psicologo non essendo un libro terapeuta nel nel vero senso americano del termine proprio perché in America si può esercitare questa professione in Italia non ancora. Noi cosa abbiamo fatto? Io personalmente ho accolto la metodologia della libroterapia e ho trasformato l'idea di questa metodologia in un momento di performance artistica a tutti gli effetti. Il triage letterario per noi è il diciamo il primo momento il primo incontro che facciamo con i nostri lettori i pazienti letterari o gli aspiranti i pazienti letterari. Diciamo davvero l'aspetto performativo del nostro pronto soccorso letterario diciamo che alleggerisce la difficoltà che molti avrebbero nel parlare di emozioni. Poi è chiaro che in poche battute in pochi minuti non possiamo parlare davvero di emozioni quindi è davvero un primo incontro che ci porta però subito alla letteratura nel senso che tutti sorridono ovviamente di fronte alla a questa questa ricetta medica però scoprono subito che con la leggenda che c'è sotto ogni emozione quindi la tristezza la gelosia la rabbia lo stress e la timidezza scoprono subito che possiamo parlare di sentimenti ma con l'escamotage del libro del vero vaccino letterario e quindi diciamo che attraverso questa ricetta attraverso il nostro ospedale da campo letterario arriviamo al libro quindi è l'ennesimo tentativo per parlare di letteratura e per parlare di libri.